Bene, allora è un buon servizio senza dubbio, sono luoghi difficili anche da raggiungere, la strada per andare a Chiaramonte, a Geradana, a Monterosso, non è che sono le migliori, anzi saluto gli amici di Monterosso, Geradana, la nostra emittente si vede lì, saluto i sindaci, quindi avere questa possibilità non è certo una cosa brutta, inizierà a giugno ma poi a settembre sarà possibile come community avere questo servizio. Chiudiamo il nostro regionale con due servizi, uno ci arriva da Pozzallo con la nostra Giovanna Cannizzaro, parliamo dell'istituzione della diocesi di Noto, voi sapete che Noto c'è che Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo sono inseriti nella diocesi di Noto, tra l'altro la nostra emittente si vede anche a Rosolini, nella zona di Portopallo, quindi lì è la zona della diocesi di Noto. E la nostra Giovanna Cannizzaro ci spiega qual è questo anniversario. Poi chiudiamo con un servizio di Teresa Guarnuccio su questi appuntamenti serali, festivi nel centro storico in via Roma a Ragusa per vedere come si può movimentare il centro storico. Grazie per l'attenzione, seguiamo i due servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti!